Fulvio Collovati, il campionato di calcio sta regalando grandi emozioni, soprattutto grazie al Napoli? Direi che sta uccidendo il campionato, lo sta uccidendo in anticipo rispetto alle aspettative, ma è la squadra che giustamente merita questo elogio e questa classifica, perché gioca un calcio nettamente superiore alle altre, l'ho dimostrato contro la Juve. Cioè la Juve che non ha preso gol in otto partite ne prende cinque in una, per cui potevano essere molti di più, per cui è una lezione di calcio, di spettacolo, ma a questo punto non lo so chi possa fermare questo Napoli, francamente. Forse gli impegni in Europa, soprattutto la Champions, la Coppa Italia, insomma la stagione è tra lunga? Ma la stagione è certo, mettere delle sentenze a gennaio, pensate un po', il campionato finisce il 4 di giugno, per mettere delle sentenze a gennaio è un po' prematuro, per cui colui che insegue si affida a questo, alla Champions League, alla Coppa Italia, agli altri competizioni, però il Napoli ha una rosa competitiva, non ha solo 11 giocatori, per cui penso che possa essere la stagione giusta, ma se non altro per l'entusiasmo che c'è in città, è un entusiasmo contagioso, travolgente, che non può fare del male, e penso che i giocatori l'abbiano capito.